Diciamocelo, gli obiettivi G Master sono un po' una garanzia dal punto di vista qualitativo, eppure stiamo vedendo che negli ultimi anni Sony porta sul mercato già alcune versioni Mark II di alcune di queste lenti che comunque non hanno tanti anni alle spalle, dopo tutto proprio la serie G Master tutto sommato è abbastanza recente, da quando Sony ha iniziato a fare sul serio anche per le ottiche in casa senza più affidarsi a Zeiss. Eppure, dicevo, iniziano ad arrivare queste versioni Mark II, quando noi sappiamo che gli obiettivi di per sé non sono dei prodotti che hanno una scadenza, se così vogliamo dire, molto rapida, anzi durano molto, ci sono tanti obiettivi vecchissimi che vengono cercati tutt'oggi, però succede magari per una loro caratteristica particolare, per una resa riconoscibile che può piacere. Sony invece ha chiaramente un obiettivo molto preciso con la serie G Master, cioè quello di puntare all'eccellenza, di puntare alla perfezione dal punto di vista della resa. E questo non vale solo per l'ottica, ma anche per quello che concerne proprio l'esperienza d'uso, l'ergonomia dei propri obiettivi, e questo lo abbiamo visto non solo con la serie G Master, ma anche con la serie G, che ormai è dotata di ghiere, pulsanti, switch, cose che non sempre troviamo altrove. Comunque oggi viene annunciato un nuovo obiettivo, ovvero l'85mm f1.4 GM Mark II, quindi appunto siamo in una seconda generazione. Il precedente era arrivato nel 2016, quindi sono passati otto anni, e in questi otto anni non solo Sony ha trovato il modo di migliorare la parte proprio ottica di questo obiettivo, ma anche di rendere più efficiente, diciamo, la resa complessiva per questioni come, non so, l'autofocus, per la presenza di uno switch aggiuntivo, per le dimensioni più compatte, insomma, adesso vi spiego un po' tutto quanto. Anzi, iniziamo proprio dalla dotazione, che include, come al solito, la classica sacca morbida da trasporto, che poi io non uso mai, ma questo è un altro discorso, anzi, fatemi sapere nei commenti per curiosità, voi le utilizzate, le sacche degli obiettivi. Poi abbiamo il porraluce, sempre in dotazione, ora lo tolgo giusto per farvi vedere le dimensioni, diciamo, reali dell'obiettivo. E poi questo è più o meno simile al precedente, magari uno sguardo fugace potrebbe sembrare esattamente lo stesso, ma ci sono alcune caratteristiche interessanti e migliorative, come ad esempio il fatto che il peso sia ridotto del 20%. Attenzione, parliamo sempre di 640 grammi circa, quindi non è certamente un obiettivo leggero di quello che usi così in scioltezza con una mano, sempre meglio lavorare con due mani, però è sicuramente più bilanciato, complice anche il fatto che il volume sia ridotto di circa il 13%. Rimangono filtri da 77 mm frontali, è un obiettivo che comunque è sempre, diciamo, tropicalizzato, comunque resistente a polvere ed umidità, quindi con tutte le varie guarnizioni sull'innesto, sotto le ghiere e via discorrendo. Abbiamo la ghiera di manual focus che funziona anche con andamento lineare, abbiamo ovviamente la ghiera per quanto riguarda la gestione dell'apertura, che va da f1,4 fino ad f16. Ora, come potete notare, qui non ha fatto nessuno scatto perché era attivato il click switch qui in basso, che non fa altro proprio che eliminare gli scatti che ci sono tra un passaggio e l'altro, cosa che può servire in particolare, non so, per chi fa video e non vuole appunto avere lo scatto sia visivo che anche magari che si sente nella registrazione. In aggiunta abbiamo uno switch che è l'Iris Lock, che quindi dà la possibilità di dire vado in A, cioè automatico, diciamo, e lo blocco qui per evitare che poi si possa spostare accidentalmente, e quando siamo in A in realtà, a seconda della modalità di scatto che stiamo utilizzando, l'obiettivo si può controllare anche nella sua apertura in modo manuale. Ad esempio in M possiamo impostare la rotella frontale che controlla l'apertura, quindi se non vogliamo insomma agire manualmente sulla ghiera possiamo farlo in modo assolutamente tradizionale. Poi abbiamo due pulsanti Focus Hold personalizzabili, un in alto, uno di lato, utile magari a seconda dell'orientamento di scatto che stiamo utilizzando, e lo switch AF-MF, che per me è fondamentale. Io quando vedo un obiettivo che non lo ha, già di partenza mi dà fastidio. Dal punto di vista fisico non c'è molto altro da dire, comunque è molto compatto nella sua costruzione, molto preciso anche nei movimenti, nei vari switch, nelle ghiere e via discorrendo, quindi come al solito G Master significa qualità. Quello che cambia poi è ad esempio il motore di messa a fuoco. Passiamo da un motore ad ultrasuoni, che avevamo nel precedente 85mm F1.4 G Master, a quello nuovo lineare XD. Rimane sempre una messa a fuoco interna, con l'evento frontale che non fuoriesce, non ruota e via discorrendo, questo c'era anche in passato, però a differenza del precedente motore ad ultrasuoni, questo è completamente silenzioso, è molto più veloce. Questo è importante sotto diversi punti di vista, nel senso che comunque il precedente si può assolutamente usare, però in questi sei anni, otto, come dicevo prima, dal 2016, di cose ne sono cambiate. Sempre di più utilizziamo le fotocamere anche per fare video, ad esempio, e quindi già il fatto di avere un motore di messa a fuoco che vada in modo lineare, quindi senza quegli scatti, senza generare proprio nessunissimo rumore, è un grande passo avanti. E poi abbiamo fotocamere oggi che fanno foto come la 9.3 a 120 fotogrammi al secondo, e serve un obiettivo come questo, che ha in effetti la capacità di rispondere anche a quella velocità nel tracking. Ed ecco che abbiamo una resa che Sony dichiara essere tre volte più veloce, normalmente, diciamo così, nello scatto singolo e tradizionale, col riconoscimento volti, quello che volete, ma che arriva anche ad essere sette volte più veloce nella raffica dell'inseguimento. Quindi certamente un obiettivo che dal punto di vista della messa a fuoco è proprio tutta un'altra cosa. Quello che invece praticamente non cambia da quello che ho potuto vedere è la distanza minima di messa a fuoco. Non ho il dato proprio preciso, perché come al solito sto registrando questo video in anticipo rispetto a quella che è la data poi di uscita, con tutti i dati, schere tecniche e via riscorrendo, però sembra che più o meno siamo ancora su quegli 80 cm circa di distanza minima che aveva il precedente 85 mm di G Master, che significa avere un rapporto di ingrandimento di circa 0,12 per, insomma, giù di lì, che non è tanto. Ora, per carità, questo nasce come obiettivo principalmente da ritratto, quindi non è che ti serva per quello, però, viste le sue ottime qualità, che adesso andremo anche ad analizzare, mi sarebbe piaciuto poterlo utilizzare, anche un po' come un mezzo macro, insomma, non dico un rapporto 1 a 1, per carità, ma, insomma, qualcosina in più mi sarebbe sicuramente piaciuto, per avere dei close-up, insomma, un pochino più ravvicinati. Dal punto di vista della qualità ottica, però, veramente, veramente impressionante. Qui abbiamo 15 elementi, in 11 gruppi, con due elementi XA, due elementi ED, che come al solito vanno a ridurre aberrazioni geometriche, aberrazioni di ogni tipo, insomma, che ci sono all'interno della lente, il trattamento, che poi vedremo dopo, per quanto riguarda flare e ghosting, e, insomma, è un obiettivo che va ad introdurre delle migliorie, anche proprio dal punto di vista della costruzione ottica. E, come dicevo, questo si vede nei risultati, perché a tutta apertura, nella zona centrale del fotogramma, è già veramente super, super nitido. Bisogna fare fatica per notare, comunque, quello scatto di miglioramento che può esserci intorno ad F2, e poi, sì, se vogliamo, a F5 forse c'è proprio la nitidezza massima, ma comunque è un obiettivo con una resa veramente eccellente. E poi, nelle zone più ad angolo del frame, è dove mi ha stupito forse ancora di più, perché veramente già a tutta apertura la quantità di informazioni che si riescono a catturare è elevatissima. Poi, magari, c'è un po' di morbidezza in più rispetto al centro, sì, questo è chiaro, però se voi chiudete, cioè per dire, a F2,2 già è virtualmente perfetto, diciamo, quello che vi riesce ad offrire, considerando anche poi che è un 85 mm in genere, come dicevo, si utilizza per i ritratti, e quindi poi le zone più esterne del fotogramma quasi sempre sono un po' sfocate, insomma, possiamo anche dirlo, però di base ha una resa veramente, veramente ottima. E poi si comporta anche, secondo me, in modo diverso rispetto al precedente 85 mm G-Master per quanto riguarda lo sfocato. Certo, rimane uno stacco dei piani molto netto, perché a F1.4 85 mm sono caratteristiche per cui, nel momento in cui tieni un soggetto abbastanza vicino, anche se lo sfondo è a un metro, si impasta completamente. Però in altre situazioni dove il soggetto è un po' più distante, lo sfondo è un po' più ravvicinato, eccetera, comunque questo obiettivo secondo me è una resa più interessante perché ci mantiene una buona visibilità delle informazioni, di quello che c'è nello sfondo, pur rendendolo ovviamente molto più morbido. E quindi questa cosa dà un effetto, secondo me, abbastanza più completo all'immagine, cioè ne aumenta la leggibilità. E poi anche il bokeh con le sorgenti di luce puntiforme devo dire che fa un bel passo avanti perché risulta molto meno nervoso, molto più preciso, è tutto di un colore, non si nota magari, sapete, il bordino più luminoso intorno che lo incornicia, no, ha una resa decisamente migliore soprattutto quando lo vediamo al suo, meglio, diciamo, con l'apertura massima di F1.4. Dove, peraltro, nella zona centrale è abbastanza rotondo, considerate che qui abbiamo undici lamelle circolari, però nel momento in cui ci avviamo verso il bordo del fotogramma inizia a prendere un po' la forma tipica ad occhio di pesce, insomma. Mentre andando a chiudere poi via via il diaframma notiamo che lamelle, o per meglio dire, gli spigoli che creano tra l'una e l'altra iniziano un po' più a vedersi e poi di nuovo spariscono quando il bokeh è abbastanza piccolo, quindi se chiudiamo intorno a F9, per dire F8, insomma, e lì sembra più un elemento che torna ad essere rotondo, anche se non poi pulito come lo vedevamo con le aperture più elevate. Insomma, un bokeh che comunque nel complesso è certamente di ottima qualità e che poi, a di fuori, insomma, di quello che può essere proprio il punto luminoso nella sua specificità, riesce a rendere molto bene un effetto di tridimensionalità sia del soggetto che dell'eventuale sfondo. Ora, un aspetto che sicuramente è anche molto, molto migliorato è quello del flare. Flare che era sicuramente tra i difetti, diciamo, del primo 85mm G-Master e qui invece c'è un trattamento nano air di seconda generazione che effettivamente porta ad avere un contenimento vistoso di questa problematica. Infatti, anche scattando proprio contro sole la perdita di definizione, insomma, quel velo che ci poteva essere sul modello precedente qui è veramente super, super circoscritto proprio al punto luminoso, anche se ho notato che a tutta apertura può capitare di vedere un qualche alone magari sul magenta può venire fuori, ma chiudendo un po' il diaframma poi sparisce anche quello. Diciamo che intorno ad F4 questo tipo di problematica non si vede completamente e il flare si riduce ancora di più. Anche la distorsione è davvero super contenuta. Ho dovuto fare uno scatto proprio su una graticola per tirar fuori un po' quello che può essere un numerino di correzione che su Lightroom Classic per dire di meno uno per correggerla c'è praticamente un non nulla nella maggior parte dei casi e non bisogna proprio correggerla. Poi è un obiettivo che in termini di vignettatura si comporta benissimo quindi c'è pochissima caduta di luminosità lungo gli angoli del fotogramma anche a tutta apertura anche lì io personalmente non la corroggeremo mai perché è veramente ottima anche nel RAW così come esce dalla camera senza nessun tipo di post produzione e quindi insomma veramente pochissimi difetti anzi veramente non ne ho trovati ecco sostanzialmente poi per carità è una lente che si fa pagare perché portandovi tutte queste cose al massimo anche dal punto di vista come vi dicevo della messa a fuoco che non solo è compatibile con la 9.3 quindi con i 120 fotogrammi al secondo ma anche dal punto di vista video si è comportata molto bene considerate che io l'ho provata su una Sony Alpha 7R Mark IV che quindi non è l'ultima uscita non ha proprio l'intelligenza diciamo al massimo delle ultime fotocamere di Sony eppure anche nell'inseguimento nel video si è comportata davvero molto molto bene sia con la modella che andava avanti che tornava indietro insomma è andata sempre perfettamente a fuoco con totale silenziosità e con movimenti così fluidi che sono praticamente impercettibili cioè sembra che la stessa venga tenuta costantemente a fuoco in maniera un po' magica se vogliamo da qualcuno che gli sta dietro con una messa a fuoco e di un'esperienza trentennale come minimo quindi sicuramente ottimi risultati anche da quel punto di vista il tutto nel pacchetto comunque a un prezzo parliamo di 2100 euro consigliate al pubblico l'uscita è dalla metà di settembre e ovviamente sì è impegnativo l'acquisto però è chiaro che se volete il massimo se volete un prodotto che comunque viva perfettamente all'interno di quello che è l'ecosistema Sony soprattutto setup di gamma come facevo prima nell'esempio della Sony Alpha 9 Mark III questo è certamente l'obiettivo di riferimento il nuovo obiettivo di riferimento in casa Sony considerate ovviamente che se lo prendete dai nostri partner Riflessi Shop di Torino lo pagate anche il 5% il meno con il codice saggio sconto tutti i link li trovate in descrizione magari siccome esce proprio in questo momento il link potrebbe arrivare con qualche minuto di ritardo però comunque ci sarà e ricordate anche che questo codice vale per tutto quello che è il sito di Riflessi Shop di Torino che è anche un negozio fisico chiaramente che ha sede lì a Torino dicevo da tanti anni che ha un parco di prodotti sterminato che comprende fotografia il video l'audio i droni praticamente di tutto quello che può interessare a noi amatori professionisti di questo mondo e soprattutto è un partner che ho scelto per la estrema affidabilità oltre ad avere prezzi bassi su prodotti che comunque sono tutti importati ufficialmente in Italia non quelli con giri strani come trovate magari in alcune situazioni sono tutti prodotti che vengono gestiti con la massima serietà e con una assistenza pre vendita post vendita insomma una garanzia tranquilli totale che vedete anche da quelli che sono i feedback su Trustpilot per dire quindi quel codice saggio sconto lo potete utilizzare su tutto il sito 5% di sconto che man mano che le cifre salgono diventa sempre sempre più interessante grazie a Sony per avermi dato la possibilità di provare in anteprima questo obiettivo grazie come sempre a Riflesi Shop grazie a voi che avete visto questo video voglio ringraziare anche il mio amico e collega Salvatore Cosentino con cui abbiamo provato un po' la lente proprio ieri praticamente perché abbiamo avuto veramente pochissimo tempo e anche Lidia la modella che ci ha aiutato per portare a casa qualche scatto che avete sicuramente visto qui e là durante la recensione grazie alla prossima ciao ciao